Oggi parliamo dei modi di dire, ovviamente a tema musicale. I modi di dire sono quelle frasi idiomatiche dove oltre a capire il significato letterale, noi capiamo anche quello che è il significato simbolico, metaforico. Se ci soffermiamo, frasi, questi modi di dire a tema musicale ce ne vengono in mente parecchi, credo, dai più espliciti, da quelli più diretti. Ad esempio se vi dico che siete musica per le mie orecchie, non ho certo bisogno di spiegarvi qualcosa, oppure che sono tesa come una corda di violino, anche qui argomento musicale in sottofondo, ma il significato metaforico vi arriva immediatamente senza bisogno di spiegazione. Poi però ce ne possono essere anche alcuni, diciamo che gradatamente facciamo questa carrellatina di modi di dire con temi e argomenti musicali magari non sempre così chiari. Andiamo appunto in maniera graduale. Dare il là. Il significato simbolico arriva direttamente, diamo l'inizio a, iniziamo con un punto di partenza. Poi è ovvio che il là, tutti sanno che ci riferiamo a una nota, il là del secondo spazio della chiave di violino, ed è la nota che viene data, che è il punto di riferimento per accordare gli strumenti, per accordarsi, intonarsi tutti insieme. Viene data dal diapaso come strumento di riferimento e ha un'altezza precisa, 440 Hz, quindi una frequenza, una quantità di vibrazioni precise. Ad esempio quale momento noi possiamo ben immaginare con questo dare il là, il punto di partenza? Un'orchestra. Avete presente l'orchestra prima del concerto? Quando sono seduti, ecco, poco prima di avere magari l'entrata del direttore d'orchestra, il primo violino, che è il violino seduto alla sinistra del direttore d'orchestra, si alza da il là con il suo strumento e tutti gli altri strumenti verificano e poi fanno le loro prove con quell'effetto che è spettacolare. Lo sentiamo insieme? Così abbiamo il nostro, diamo il là. è un momento riconoscibilissimo, molto bello, se si è stati anche in buca in orchestra, è una cosa che proprio viene spontanea, piacevole da ricordare. Altri modi di dire, sempre a tema musicale, ma questo ormai è ovvio, che possono avere qualche momento di incertezza. Ad esempio, non valere un corno. Qui può non tanto essere in dubbio il significato letterale o metaforico, ma quanto perché sto povero corno viene identificato come poco o niente? Ecco, teniamo presente che la lingua non dimentica, questa è una cosa importante, quindi non ci riferiamo al corno strumento attuale, strumento dalle grandi possibilità timbriche, melodiche, eccetera, ma al corno dell'origine, quindi il corno cavo di un animale e le possibilità sonore ovviamente erano pochissime, quasi nulle, ecco perché non valere un corno, il corno è riferito a quello. Altro momento, credo che molti di noi sono stati oggetto di questa frase, vi siete sentiti dire magari, vedi di cambiare registro. A questa frase chiunque di noi ha capito che doveva cambiare atteggiamento. Magari perché registro? I registri sono dei meccanismi nell'organo. Li possiamo trovare sotto varie forme, sotto vari aspetti perché ovviamente dipende dall'epoca e dal tipo di strumento, quindi potete trovare delle leve, dei pulsanti, dei bottoni, dei cassetti, insomma vari meccanismi. E sono quei meccanismi, dette in maniera semplice, che permettono allo strumento di cambiare voce, cioè incanalano, permettono di incanalare l'aria in determinate sezioni di canne che creano effetti o timbrici o di altezza diversi. Adesso vi faccio vedere un esempio prima di tutto di registri, in questo caso lo vedete ben evidente. E poi direi che è fondamentale anche sentire, sentiamo solo tre cambi di registro proprio uno dopo l'altro e sentirete anche, prestate attenzione, proprio il rumore in questo caso anche, dello spostamento, il cambio del registro, del meccanismo. Procediamo. Saliamo magari un pochino più di aspetto difficoltoso, di comprensione perlomeno, di una o dell'altra. Tenere bordone. Da un punto di vista di significato metaforico, tenere bordone indica spesso sostenere, magari non in maniera così esplicita e in maniera così evidente, un atteggiamento o un comportamento di qualcun altro. Quindi marginalmente, senza esporsi troppo, però accompagnare e sostenere questa persona o questo comportamento. Da un punto di vista proprio musicale, rientriamo proprio in alcuni componenti di alcuni strumenti che permettono proprio di fare questi effetti di bordone. Qui vi faccio vedere prima un esempio di uno strumento a corda che ha le corde di bordone. Vedete l'arciliuto allo strumento antico, corde pizzicate e in questa immagine, vedete anche la freccia che ve le indica, le corde sospese, quelle che non sono appoggiate, o perlomeno appoggiate, non sono sopra la tastiera, che è quella che permette la variazione di altezza e quindi la melodia sulla ogni singola corda, quelle corde producono un solo suono perché ovviamente non hanno la tastiera sotto e quindi se l'esecutore, mentre suona la melodia, pizzica anche quella corda, quella corda farà un suono d'accompagnamento ovviamente fisso, cioè sempre la stessa altezza. Essendo uno strumento a corde pizzicate non è così evidente perché insomma la forza sonora non è così potente e anche da un punto di vista di durata non si percepisce bene. Possiamo fare però un altro esempio, vi faccio vedere questo strumento con le relative frecce che già vi indicano, la corna musa che come potenza sonora nettamente più evidente. Anche lei in questo caso vedete ha due canne di bordone. Pieghiamo bene, sempre in maniera rapida, avete la canna dove viene immessa l'aria dall'esecutore e poi ovviamente la sacca che viene poi da serbatoio per indirezzare. La canna con la diteggiatura, quella dove appoggia le dite, produce la melodia. Le altre due canne che vedete sempre ben evidenziate hanno diversa lunghezza, quindi quella più corta avrà un suono più acuto e quell'altro più grave, quelle producono un solo suono. Se l'esecutore con indirizza l'aria all'interno di una di queste due o di tutte e due le canne, ecco che voi sentirete sottofondo come bordone questi due suoni fissi mentre si sente in sovrapposizione ovviamente in maniera più evidente della melodia. Facciamo l'esempio sonoro che le parole talvolta confondono. Breve esempio, è chiaro, ben evidente. E adesso arriviamo al titolo di questo video. Capita l'antifona? Capire l'antifona. Antifona. Allora, il significato è capire a cosa mira un discorso, questo da un punto di vista simbolico. L'antifona, se ci riferiamo proprio al termine, dobbiamo risalire a quella che è la liturgia cristiana. Quindi andiamo verso il canto gregoriano. E l'antifona è quella breve frase di Norma prima dei salmi, che viene poi anche ripetuta, questa antifona, così la capiamo bene. E in quest'antifona il testo anticipa il succo del discorso del salmo stesso, è riassuntino. Quindi dà già l'idea di tutto il resto e per di più viene anche ripetuta. Adesso vi faccio vedere prima di tutto un'immagine dell'antifona che poi ascolteremo, che così abbiamo anche il quadro completo. E in sovrapposizione vedete l'antifona e poi il procedere verbale del salmo, che ovviamente viene sempre cantato. Circolato nei vari momenti del salmo, vedete, seppur piccolino, che l'antifona ant viene ripetuta. E adesso ascoltiamo anche questa antifona. Questa era l'antifona Le Tenturceli dal salmo 95, quindi come avete anche visto dall'immagine. A questo punto verrebbe spontaneo dire, abbiamo capito l'antifona? Se l'abbiamo capita e siamo d'accordo, a questo punto potremmo unirci al coro. Alla prossima!